Siamo con il capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Davide Bordoni. Il 5 novembre è una data per un rilancio di un territorio che può essere definito non un municipio di Roma, ma il municipio. Sì, come ho detto in conferenza stampa, Roma è tutta importante, però evidentemente questo è un territorio che ha le possibilità e la vocazione per essere strategico. Insomma è l'unico municipio di Roma che si affaccia sul mare, ma a parte il mare ha un suo vasto entroterra che va dall'Infernetto, Casal Palocca, Ciglia, fino ad Ossia Antica dove sono presenti gli scavi archeologici. Quindi è un municipio sul quale lavorare e investire. Mi sembra che in questo anno l'amministrazione Raggi ha lavorato poco e male su tutta Roma ed in particolare su questo territorio. Quindi quello che noi chiediamo è un supporto con questa presenza il 23 settembre sui 10 gazebo per il decimo municipio, dove chiederemo le priorità ai nostri concittadini su quello che può essere il programma del centro-destra. E dall'altro metterci noi, consiglieri comunali, rappresentanti, dirigenti, parlamentari, direttamente in contatto per l'ascolto dei nostri residenti. Perché molto spesso, questa è una cosa che ho imparato da presidente del municipio, molto spesso il cittadino che vive tutti i giorni quel determinato problema, a volte elabora anche la soluzione di quel problema. E quindi l'ascolto è assolutamente importante e strategico. Dall'altro il centro-destra già sta lavorando a un programma, non solo saremo insieme come Forza Italia, anche con i colleghi di Fratelli d'Italia e noi con Salvini, ma addirittura è aperto anche alle liste civiche, alle aree civiche di Marchini, all'area politica di Ciocchetti. Molto probabilmente si presenterà anche una lista civica a supporto del presidente. Quindi credo che ci siano tutti gli elementi per poter affermare che il centro-destra possa non solo arrivare al ballottaggio, ma addirittura vincere questa tornata elettorale. Un centro-destra che si riavvicina al cittadino proprio con questa iniziativa di sabato? Assolutamente sì, è la priorità, insomma anche quello che ho sempre fatto come rappresentante politico e istituzionale, insomma le trasmissioni, il lavoro costante e continuo perché non solo ti arricchisce, ma poi insomma parliamo di una città importante come il decimo municipio, addirittura 300.000 abitanti. E quindi, voglio dire, uno non può stare da tutte le parti. Quindi se non hai il cittadino che controlla, che condivide, che ti scrive, che ti sollecita, è evidente che poi non si può avere comunque una pappatura generale di quelle che sono le criticità. Ecco, l'aspetto è proprio quello, non solo risolverle, ma anche svolgere un lavoro di rilancio di questo territorio, perché credo che sia assolutamente strategico e può dare tanto, sia in termini di qualità, ma anche in termini di occupazione e di investimenti.